Oggi preparo per voi queste buonissime creppe alla zucca, rimanete fino alla fine. Prendo 250 g di zucca, qui ho la zucca delica, io l'ho tagliata a fettine e adesso la metto sulla teglia. Poi vado a infornare nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per una ventina di minuti. Una volta cotta la zucca, io l'ho fatta raffreddare e adesso vado a metterla in una ciotola. E adesso con il frullatore a emersione vado a frullare la zucca perché dobbiamo ottenere una purea abbastanza morbida. Quindi io ho anche qui della bevanda vegetale, se serve ne aggiungo un po' alla volta finché non ottengo la consistenza giusta della purea. Frulliamo. Ed ecco qui pronta la nostra purea. Adesso prendo una ciotola più grande e la metto all'interno. E adesso prendo tre uova e le rompo all'interno. Ora prendo la frusta e mescolo bene. Ora aggiungo 100 g di farina, io sto usando quella di riso, ma voi potete utilizzarne anche un'altra che preferite. Aggiungo poco alla volta e continuo a mescolare con la frusta. Badate bene ai dosaggi ragazzi, se usate un altro tipo di farina probabilmente cambierà la dose. Bravissimo Alessio per questa osservazione. A questo punto ci siamo quasi, guardate che bella consistenza, però noi la vogliamo un po' più liquida. Quindi aggiungo 100 g di bevanda vegetale, di soia o di mandorle, quella che preferite. Aggiungo anche un pizzico di sale. E adesso mi sposto ai fornelli. Prendo una padella, la faccio scaldare bene e la spennello con un velo d'olio. Ora quando la padella è ben calda, prendo un mestolo del nostro impasto, lo metto al centro e poi muovo la padella in questo modo. Così distribuisco bene la pastella e noi otterremo una crepe bella uniforme. A questo punto direi che ci siamo quasi, possiamo girarla, sono passati pochi secondi, forse una ventina, e delicatamente la giriamo e la facciamo cuocere anche dall'altro lato. Direi che ci siamo, guarda che bella. Bellissima, una crepe arancione. Esatto, e adesso vado a cuocere anche le altre crepe. Ragazzi guardate, le abbiamo cotte tutte e sono diventate arancionissime, arancioni proprio, guardate qua. Hai visto che belle? Con queste tosi io ne ho ottenute otto. Adesso arriva la parte bella, cioè la farcitura. Però prima ragazzi, se vi piace questo video, lasciate un mi piace, per noi è importantissimo e soprattutto condividetelo. Ci date una mano enorme e ci supportate, soprattutto supportate il nostro lavoro e noi saremo ancora qui, anche domani, a condividere un video con voi. Quindi Diana, come abbiamo intenzione di condire, farcire queste crepe? Allora, io qui ho il nostro famoso formaggio vegetale spalmabile. Guardate che bello, che consistenza. E visto, sembra proprio il classico formaggio spalmabile. Lo potete fare in casa, è facilissimo ragazzi, magari vi lasciamo la ricetta nei commenti. Serve soltanto a do yogurt di soia al naturale. Dovete farlo colare e poi otterrete questa meraviglia, che sta veramente di formaggio. E adesso io andrò a farcire le crepe con questa super crema spalmabile. Ragazzi, voi ovviamente, dipende con che farine fate le crepe, insomma, voi potete farcirle anche dolci, potete farle come volete, insomma. Esatto. L'importante è che le fate perché dovete provarle, sono buonissime. E adesso io le arrotolo così. E poi le metto qui sul piatto. Wow, sembrano dei cannelloni, Diana. È vero. Guardate quanto sono belle, tutte arrotolate. Bellissime, ma non è ancora finita. Ora, per finire, io qui ho della besciamella di riso, semplicissima da fare, la trovate sul nostro sito. E vado subito a decorare le nostre crepe. Quanto sono belle, quanto sono golose, ragazzi. Ma quanti di voi non vedono l'ora di farle? Dai, scriveteci qui sotto nei commenti. Aggiungo anche delle foglioline di prezzemolo. Io non vedo l'ora di assaggiarle, ragazzi. Ne prendo una, anche se non voglio rovinare questa montagna di crepe. Però mi tocca farlo. Lo faccio per voi. Che goduria, ragazzi. Wow. Buonissime. Buonissime.